L'assegno del reddito di cittadinanza comincerà a diminuire dopo il primo rifiuto di un'offerta di lavoro congura. Dopo il secondo rifiuto scatterà la revoca del beneficio. Sono le novità emerse dal vertice tra il Premier e i Ministri Orlando, Patuanelli e Brunetta e che dovrebbero entrare nella legge di bilancio. In arrivo anche una stretta sui controlli. Il Ministro del Lavoro ha presentato anche dieci proposte, frutto del lavoro del Comitato Scientifico, per migliorare il reddito dal riequilibrio a favore delle famiglie numerose, oggi penalizzate rispetto ai single, ai requisiti di accesso più morbidi per gli stranieri. La riflessione che la Commissione offre è invece quella appunto di una riforma più organica, più ambiziosa. Naturalmente sta poi alla politica a valutare in che misura e come assumere questi obiettivi e condividerli. L'altro correttivo in arrivo per la manovra riguarda le pensioni. Non dovrebbero essere alzati i requisiti di opzione donna, anche nel 2022, quindi ci sarà la possibilità per le lavoratrici di lasciare il lavoro con 58 o 59 anni di età e 35 di contributi. L'assegno sarà calcolato con il metodo interamente contributivo. Capitolo super bonus ed inizio nella manovra. C'è la proroga fino a tutto il 2023, ma solo per i condomini e le case popolari. Per le case unifamiliari in arrivo l'estensione per tutto il 2022, ma solo se si ha un reddito ISEE fino a 25 mila euro. Il limite potrebbe essere eliminato. Noi torneremo a livello... Noi torneremo a livello... Noi torneremo a livello... Noi torneremo a livello... Grazie a tutti